Radio Studio 7 Music and Style Un buon pomeriggio agli amici di Radio Studio 7 in radiovisione sul canale 611 del Digitale Terrestre con 7 News Special gli speciali e gli approfondimenti dal territorio un occhio particolare alle varie particolarità di questo nostro grande, ricco territorio marchigiano quest'oggi un piacere in più per potervi presentare far conoscere una compagnia teatrale molto attiva nel territorio in passato abbiamo avuto modo di seguirli con diverse situazioni comiche e non solo, sicuramente quella di oggi merita un occhio di attenzione parliamo della compagnia teatrale dei dilettanti della città di Rapagnano un evento che sarà proprio in questo weekend un lungo weekend a partire dal 22 fino al 24 di aprile presso il teatro comunale Giacomo Emiliani di Rapagnano andremo a conoscere gli attori l'anima dell'evento con la nostra intervista grazie alla nostra Roberta pronta nello studio 4 andiamo a parlare di Filumena Marturano e di Edoardo De Filippo una commedia molto impegnativa dai sapori molto particolari che penso che i nostri ospiti ci potranno sicuramente se non far rivivere comunque portare a quella curiosità tale per essere poi presenti al teatro di Rapagnano andiamo a conoscere Stefania Di Stefano ed Andrea Rossi il domini della situazione linea allo studio 4 il buon pomeriggio a te Roberta ed ai tuoi ospiti buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori e a tutti quelli che ci seguono dal canale 611 del Digitale Terrestre riprendiamo le nostre trasmissioni con 7 News Special questo pomeriggio dallo studio 4 è gremito lo studio 4 in questo pomeriggio e siamo in compagnia dei ragazzi della compagnia teatrale I Dilettanti Stefania Di Stefano ed Andrea Rossi che andremo a conoscere iniziamo con Stefania Di Stefano Salve, buon pomeriggio a tutti e ben arrivati si dice in televisione? si, si dice Stefania Di Stefano perché siete qui? che cosa succede a Rapagnano il 22, 23 e 24 aprile prossimo? allora finalmente dopo tanti anni che la qui presente ci pensa andremo in scena con Filumena Marturano una commedia di Edoardo De Filippo come spero già saprete e niente io e il mio Don Mimisoriano oggi siamo qui per raccontarvi quello che è successo in questi mesi cosa ci ha portato a fare questa grandissima commedia questa è un'opera e tutto quello che tutte le emozioni tutto il cuore tutta l'anima che mettiamo in questo piccolo grande spettacolo hai anticipato Andrea Rossi Don Mimisoriano allora Andrea ci vuoi invece presentare un po' la compagnia quando siete nati quando sei entrato in questa compagnia e prima di Filumena Marturano in che cosa vi siete cimentati? salve a tutti innanzitutto buon pomeriggio come ha preannunciato Stefania un'opera gigantesca quella di Filumena Marturano scritta nel 1946 quindi 70 anni or sono ma ancora uno spaccato di vita italiana attualissimo lo possiamo ritrovare nella maggior parte delle case odierne di oggi esatto la compagnia nasce 8 anni fa 9 anni fa se non ricordo male io sono entrato soltanto 5 anni fa credo e abbiamo fatto all'inizio abbiamo cominciato con dei spettacolini per bambini spettacolini anche lì abbiamo fatto abbiamo portato in scena Alice nel paese delle meraviglie con grande successo perché abbiamo toccato circa 20 teatri teatro più teatro meno poi abbiamo fatto visto la richiesta anche un altro spettacolo per bambini dal nome TV Fiaba e anche questo ha avuto le sue 15 edizioni di gloria e poi abbiamo iniziato questo progetto ambizioso dal mio punto di vista io sono onorato di aver avuto questa parte che oltre ad essere onorato mi investe anche perché non è che mi riveste mi investe di grande responsabilità perché Don Mimisoriano interpretato da grandissimi come Edoardo De Filippo in primo ma poi anche con Massimo Ranieri l'ultima rappresentazione anche in tv è un bel fardello da portare sopra le spalle Ti senti una bella responsabilità insomma Diciamo proprio di sì ringrazio Stefania per la fiducia ma abbiamo dovuto lavorare molto ecco speriamo che poi il risultato si veda Speriamo Stefania da quanto tempo lavorate a questa che possiamo definire la commedia per eccellenza di Edoardo De Filippo Sì è la creatura di Edoardo De Filippo è l'unica commedia scritta per la donna da Edoardo De Filippo quindi per tutti gli amanti Allora il progetto inizia quattro anni fa è tutto nella mia testa e sapevo che Filomena Marturano era qualcosa di importante per me e per tutti quelli che mi avrebbero seguito ho aspettato ho aspettato che arrivasse probabilmente il momento giusto le persone giuste perché si fa una commedia cioè la storia è il 50% della commedia poi l'altro 50% è le persone che ne fanno parte quindi ho aspettato di trovare i compagni giusti per questo viaggio e ho trovato una grande Filomena e saluto Monia Mazzoni che oggi purtroppo non è qui perché aveva un altro impegno e a luglio una mattina di luglio l'ho chiamata ero in macchina e mi emoziono sempre quando lo dico perché è stata una scelta importante e faccio Monia e facciamo Filomena Marturano e lei fa che? dico no no facciamo Filomena Marturano ma Stefania ma se facciamo Filomena Marturano e lei mi fa va bene dai facciamo Filomena Marturano è stata subito di impatto e poi mi fa ma chi fa Filomena Monia sei tu Filomena e lei fa no no sì sì e poi si è fatta un grande sorriso mi ha fatto dai sì dai facciamo sta Filomena proprio è stata per me era importante perché io non avrei mai fatto Filomena e perché non l'avresti mai interpretata? perché io vedo Filomena in tutte le donne Edoardo De Filippo ha scritto questa commedia tanti anni or sono e quando l'ha scritta ha pensato a tutte le donne di allora ma è anche attuale oggi cioè tutte le donne che con una dignità paurosa spaventosa portano avanti la famiglia il proprio lavoro il rispetto della donna e quindi avrei avrei non lo so qualcosa che ti dice Filomena è grande e quindi è il rispetto che ho è impressionante non lo so se avrei mai fatto Filomena però è Monia c'è e sono felice di questo abbiamo lavorato abbiamo lavorato tanto su Monia su Andrea su tutti gli altri protagonisti perché ne sono otto nove scena scusate è stata dura e finalmente non vediamo l'ora di andare in scena sarà una gioia sopra ogni limite ricordiamo ricordiamo allora quali sono i giorni in cui andrete in scena sì allora 22 23 24 aprile al teatro Giacomo Emiliani di Rapagnano in provincia di Fermo perché qui siamo estracomunitari ricordiamolo siamo un po' estracomunitari in questa zona qui venite venite a teatro lo so è distante ma vale la pena per rivedere scoprire una commedia senza tempo per rivedere noi sopra il palco tutti noi perché Filomena Marturano abbraccia tutto abbraccia il sentimento la tristezza la forza la 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 dignità il riso il pianzo tutto in Filomena Marturano c'è tutto c'è la nostra storia quindi un grazie a Edoardo De Filippo che ha un grazie anche a tutte le attrici che hanno già interpretato Filomena Marturano quindi avete un paragone non non da poco è notizia di questi giorni che è morta Regina Bianchi una grande interprete sì forse la massima secondo me il top si può dire il top è stata una grande Filomena Marturano tuttora è attuale vedendo i filmati in bianco e nero c'è è lei sì sì la forza di questa donna lei la incarnava perfettamente Andrea l'attualità di Filomena Marturano beh come come ha detto poco anzi Stefania è uno spaccato di vita che appunto ritroviamo in ogni in gran parte delle famiglie attuali perché sembra davvero scritta non 70 anni fa ma sette giorni fa ci sono molte molte similitudini anche diciamo io vengo da un paesetto casette d'ete dove è a forte impronta calzaturiera no è un distretto il distretto fermano tutto fa parte un po' si aggira tutto intorno a questa imprenditorialità che è il calzaturiero io stesso ho un'azienda di calzature e vedere l'autorità di Domi Misoriano che era un ricco dolciere di Napoli quindi la seconda generazione il padre Raimondo fondò le le pasticcerie io credo adesso dolciere di Napoli aveva queste fabbriche e quindi un po' l'imprenditore l'autorità il fatto che Domi mi deve vincere sempre su tutto e su tutti l'ho ritrovato molto anche appunto in azienda perché a volte mi ci sono rivisto quando si parla con un dipendente oppure quando si fanno delle scelte e si vuole sempre prevalere perché si dice io sono il titolare io sono o padrone come direbbe Don Mimi quindi ci sono molte cose che che tutt'oggi si legano molto a questo copione e Filumena Filumena è una donna che che ha fatto di tutto nella vita ha iniziato facendo il lavoro come si dice no il più antico mestiere del mondo però poi ha cercato di formare anche una famiglia trovandosi con tre figli i quali non erano ancora stati presentati a Don Mimi non sapeva nemmeno l'esistenza di questi tre figli e lei voleva raggiungere il suo scopo dare una sicurezza propria ai tre figli che è una mamma che non vorrebbe la sicurezza per i propri figli e Filumena Marturano ha cercato questo ha cercato di sposare anche con l'inganno Don Mimi Soriano e poi da qui parte un po' tutta la commedia però ecco quello che ha fatto questa donna per i suoi figli e per la famiglia in generale perché comunque sia tra Filumena e Don Mimi c'è stato anche amore c'è amore e ci sarà amore comunque non vi voglio svelare più di tanto perché chi ancora non conosce io stesso non conoscevo la commedia Stefania mi diede il copione la lessi e me ne innamorai subito quindi per chi non avesse ancora la conoscenza di questa opera invito tutti il 22 23 e 24 aprile al teatro Giacomo Emiliani di cui abbiamo qui una diapositiva allora Andrea ha riscoperto anche la sua napoletanità con il personaggio che va ad interpretare il 22 aprile molto di Mimì Soriano in Andrea molto e agli occhi fieri di Mimì Soriano Stefania ha riscoperto la sua napoletanità allora io Napoli la credo che sia per me la città più bella d'Italia non vorrei offendere nessuno e non credo di non non vorrei creare ecco questo per me io dico per me è molto bella Napoli è tenendo amori di Napoli chi arriva a Napoli c'ha l'impatto ma poi Napoli va guardata con occhi diversi da tutte le altre città il colore di Napoli perché Napoli è mille colori come diceva una canzone ma è vero è bellissima credo per me credo che sia la più bella e non ho scelto Filumena Marturano per Napoli ho scelto Filumena Marturano per Filumena Marturano per raccontare la storia di questa grande donna che poi è molto attuale perché come spesso sentiamo in tv la donna oggi purtroppo in casa soprattutto in casa trova delle si sente in televisione purtroppo cose molto spiacevoli e quindi soprattutto in casa cose che magari vengono nascoste o non non se ne parla però effettivamente la donna oggi è ancora è ancora diciamo schiava nonostante nel mondo è schiava purtroppo cose che non ma nemmeno nemmeno vengono lette in telegiornale ma in Italia purtroppo avvengono dei casi molto spiacevoli in casa ci sono situazioni sicuramente molto difficoltose ma ritorniamo al vostro spettacolo ricordiamo il 22 23 24 aprile e a teatro alle nove e mezza tutte e tre le sere mi raccomando perché magari qualcuno qualcuno magari ritarda ritarda e allora vogliamo ragazzi vogliamo farvi un augurio per il vostro debutto per la prima il 22 aprile a teatro non si dice tanti auguri non si dice in bocca al lupo qual è il vostro motto allora noi abbiamo loro lo sanno io ci tengo particolarmente quando c'è un un minuto di pausa tra un un atto e un altro noi facciamo andiamo tutti al centro mettiamo le mani al centro e in questa occasione diciamo si può fare che è un motto già sperimentato non l'abbiamo inventato non l'avete inventato voi no 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 e anch'io la mia per tutti gli amici d'oltre Alpe siamo ormai una compagnia nota anche all'estero dico yes we can si soprattutto in Inghilterra e in America comunque se posso io ringrazio Roberta che è una persona veramente squisita e Mario si Mario per me che è qui dietro le quinti si lo vedo con quel sorriso soriano non sornione un sorriso soriano soriano e in tema bene grazie della vostra compagnia grazie a Stefania grazie ad Andrea che cosa dire io vi invito di nuovo il 22 23 24 aprile alle 21 a 30 al teatro Giacomo Emiliani di Rapagnano per assistere a Filomena Marturano ora vi salutiamo ripassiamo la linea allo studio centrale e alla regia grazie ragazzi di essere stati con noi grazie a te e riprendiamo la linea dallo studio centrale non avevamo dubbi sulla loro bravura sulla loro simpatia e professionalità e sicuramente se siamo riusciti a mettervi quel pizzico tanto di curiosità allora vorrà dire che vi troveremo tutti o il 22 o il 23 o il 24 di aprile al teatro Emiliani di Rapagnani per Filomena Marturano termina qui questo appuntamento flash del 7 News dedicato al territorio in radiovisione anche sul canale 611 del Digitale Terrestre anche da Mario Di Iorio un grazie per essere stati con noi e ovviamente seguire anche i prossimi appuntamenti questa puntata come le precedenti la potrete trovare a breve anche sul podcast del canale YouTube di Radio Studio 7 Music & Style grazie e buon proseguo con la nostra programmazione e buon pomeriggio a tutti voi ancora Radio Studio 7 Radio Studio 7 Music & Style Music & Style e buon pomeriggio a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri